Si estende la rete del teleriscaldamento e un'importante condotta dovrà transitare nella zona ovest della città, anche lungo Viale Piacenza, ma gli scavi avrebbero provocato inevitabili congestionamenti della viabilità, considerato che la via è ogni giorno stracolma di traffico. Da qui l'accordo tra Irene e Comune, quel tratto di tubature di alcune centinaia di metri, verrà interrato non sotto Viale Piacenza, ma nell'attiguo parco ducale. In compenso, Irene provvederà ad un ampio piano di riqualificazione del parco. L'annuncio dell'assessore Alinovi ieri sera a Parma Europa, con replica stasera alle 23. Fermo restando che l'attenzione della giunta è stato posto al tema dell'estendimento del teleriscaldamento. A un certo punto bisogna decidere se passare da Viale Piacenza con dei problemi sulla tenuta del traffico cittadino molto forti, oppure se concedere a Irene il passaggio dal parco ducale. Allora diciamo che c'è stata un po' di polemica, l'area Cani, quindi al parco ducale, insomma alcuni cittadini hanno messo uno striscione, e noi abbiamo rappresentato con una lettera, come dire a Irene, che vi ha anche una sensibilità da parte dell'opinione pubblica. Al di là del fatto che questi lavori sono programmati, servono anche per dare il teleriscaldamento all'università, però la sensibilità dei cittadini va rispettata. Questo è un parco storico monumentale, un parco che è stato riqualificato nel 2001 con finanziamenti di Fondazione Cari Parma. E quindi si è ridato alla città un gioiello, un gioiello che oggi, ahimè, diciamo per, come dire, riuscire ad avere una manutenzione del verde un po' diffusa, forse non ha quella manutenzione ottimale che si potrebbe dedicare, e poi perché ormai sono passati 15 anni da quel restauro. Quindi abbiamo chiesto a Irene se chiudo. Fate passare a Irene in cambio di che? In cambio di che? In cambio di un restauro, diciamo, scientifico, secondo il progetto originario, di quello che sono le pavimentazioni dei calcestri, le cordolature a bordo delle aiuoli, il rinfoltimento delle siepi che, come dire, erano state selezionate ai tempi del restauro monumentale.